Al netto dell'assenza sicura di Bortoli, che Italia ritrovi per queste qualificazioni mondiali? Abbiamo ancora due giocatori che sono incerti, Aldini e Corvattini, il resto del gruppo sta bene, li ho trovati in forma, ma anche lì a Cassano quelli che c'erano veramente vogliosi di far bene durante queste qualificazioni. Com'è lo spirito del gruppo dopo il dodicesimo posto dei campionati europei, che ci ha visti un gradino appena sotto la qualificazione diretta? Adesso abbiamo la seconda chance, peraltro c'è stato lo sforzo anche da parte della federazione di dare la possibilità di giocarsela in casa a questa squadra. Subito dopo l'ultima partita il spirito non era proprio dei migliori, però passati dei mesi il gruppo ci crede, voglio dire che noi non ci siamo qualificati per un posto, ma anche perché oltre a Germania la Grecia fa da ospite ai mondiali, perciò invece che 12 squadre sono andate 11 quest'anno dall'Europa a fare i mondiali. Perciò abbiamo buone possibilità, nonostante qualche acciacco, sono molto fiducioso. Da un punto di vista di organico, da un punto di vista tattico, che Italia vedremo in campo? In difesa solidi e in attacco pazientosi, cioè dobbiamo stare in attacco molto, non sprecare i palloni e creare vantaggio gol per gol. Questo è l'obiettivo delle partite, non essere precipitosi e cercare delle soluzioni subito, stare lì 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 a sfiancare la difesa avversaria. Sono stati inseriti anche alcuni giocatori nuovi, penso alla Bruna, penso a Jacomet, è rientrato Arena, De Luca, e poi ci sono Manojlovic, De Angelis, Virer, i ragazzi più giovani, i ragazzi della Nazionale Ender 18. Che squadra vedremo e come gestirai soprattutto le rotazioni, visto che si gioca per tre giorni consecutivi? Sì, la Bruna e Jacomet sono due giocatori che comunque sono stati seguiti in tutti questi anni, cinque anni da questa parte, dal prima volta che ci siamo trovati al raduno di Monte Silvano cinque anni fa, loro c'erano, perciò erano sempre lì vicini alla convocazione, qualche volta convocati, perciò non sono una novità. Sanno i sistemi nostri e poi i giovani che hai detto prima, non è la prima volta che giocano, hanno giocato da protagonisti agli europei. Cosa dirai ai ragazzi nelle prime ore che precederanno, nelle ultime ore anzi, che precederanno la prima partita contro Montenegro? Dobbiamo mettere in campo quello che proviamo in questi giorni, che abbiamo provato a Cassano, dobbiamo mettere in campo senza aver troppo stress addosso e giocare tranquilli e facendo le cose che facciamo in questi giorni, questa è la ricetta.